Welcome to MiroTV! Se ne vociferava tantissimo in questi giorni, ma stanotte abbiamo avuto l'ufficialità con un segmento stratosferico bellissimo Samajou è tornato in WWE ma come è tornato? Come un segmento, ragazzi, simply wonderful, straordinario sotto ogni punto di vista Partiamo da William Regal Partiamo da Regal che sembrava destinato a lasciare il posto da General Manager ci stava facendo dei discorsi davvero commoventi dove lui era andato anche a ricordare cosa avesse fatto in tutti questi sette anni per NXT e io l'ho sempre detto, per me William Regal negli ultimi 15 anni è il miglior General Manager e ciò che lui stava facendo, stava dicendo, stava interpretando, stava vivendo con anche le lacrime secondo me, ragazzi, è un'altra testimonianza di tutto questo William Regal ti stava facendo credere che il suo tempo fosse finito ma anche per come stava interpretando il promo si è messo addirittura a piangere ed è strano vedere Regal fare queste cose io sono massimo davvero molto colpito molto colpito le prime dieci anni di NXT anche per via di Karrion Kross anche lui una grandissima interpretazione di un campione fortunatamente sfacciato anche per via di ciò che è successo due giorni prima dove Karrion Kross è riuscito a mantenere il titolo dall'assalto di ben quattro persone quattro lottatori straordinari quindi la Karrion Kross gli è arrivato a dire giustamente di lasciargli NXT sulle sue di spalle anche perché secondo Karrion Kross William Regal oramai era diventato inutile e questa cosa ragazzi a me è piaciuta perché Karrion Kross ha avuto un'interpretazione straordinaria che voleva andare a annullare un po' tutto quello che ha fatto William Regal anche quando l'ha preso in giro per via di quelle lacrime che ha versato bravissimo Karrion Kross ovviamente sempre accompagnato da Scarlett Botteau che non parla però fa parlare le sue espressioni facciali Scarlett ragazzi straordinaria secondo me come manager unica del suo genere attualmente nel panorama del wrestling secondo me modesto madre ma lasciamo stare la buona Scarlett soffermiamoci su cosa è successo poco dopo perché appena Karrion Kross continua a andar contro William Regal andarci pesanti con le sue parole risuona la team di Samoa Joe una cosa che ragazzi a me ha fatto scattare in piedi ero seduto mi sono alzato per poco non mi cappottavo in avanti io con il pubblico stavo lì a fare Joe 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 come Johnny Gargano pure dopo che lo faceva insieme a Austin stessa identica cosa ragazzi sono ancora fomentatissimo una roba pazzesca poi lasciate stare che i primi 6-7 minuti quando parlava Regal per poco non mi metteva a piangere il rio perché è stato davvero un discorso eccezionale poi io davvero ho amato William Regal come general manager mi stava dispiacendo fortunatamente tanto parlando proprio di Regal che quando ha visto Joe sembrava quasi fosse pronta a passare il testimone tant'è che è anche andata a dire che secondo William Regal a NXT ora servirebbe una personalità come Samajou per diventare general manager perché attualmente NXT è così confusionario che c'è bisogno di uno dal pozzo ancora più forte di William Regal e quindi che va a fare l'inglese? va a provare a passare il testimone a Samajou? gli propone di diventare il nuovo general manager? Samajou gli dice di no ragazzi Samajou gli ha detto di no però si è offerto come braccio destro che noi possiamo tranquillamente dire special enforcer di William Regal per dargli una mano a gestire questo NXT e William Regal lì gli si sono illuminati gli occhi perché avere accanto a Samajou può essere una grande cosa un altro step anche per NXT avere Samajou come special enforcer a me piace anche definire un po' lo sceriffo in questo caso Samajou pronta a intervenire se c'è bisogno per me è una cosa stupenda e William Regal lì ha anche accettato l'ha offerta di Samajou e gli ha detto che non potrà andare in collisione con i lottatori se non provocato quindi se Samajou verrà provocato come poi è successo poco dopo potrà mettere il mano addosso ai lottatori un Samajou che non ha ottenuto l'ok di medici per tornare a combattere ma può comunque fare questi segmenti basta che non incassi chissà cose addio mio quindi ragazzi partichiari amicizia lunga dopo 20-30 minuti Samajou ha già attaccato qualcuno ovvero Adam Cole che l'aveva malamente spintonato un Adam Cole che sta facendo una rissa con Kyle nel backstage Samajou prova a fermarlo Cole lo spintona via e lì Joe impazzisce e va a dormentare con la sua famosa finisher Adam Cole subito primo colpo di Samoa che ha rispettato le regole è stato colpito è stato quindi provocato e ha lanciato già il suo primo attacco bellissimo sto ruolo da spesa in forza di Joe secondo me è stato visto benissimo contentissimo che la WWE abbia capito che certi lottatori come Samajou non possono abbandonare una compagnia anche perché sono fottutamente utili io ad aprile ve lo dicevo come hanno fatto lì in serie Samajou che è stato capace di fare di tutto in questo periodo il commentatore l'intervistatore rappresentava la WWE in tutti i modi possibili e immaginabili ora è tornato con un altro ruolo a NXT per volere di Triple H ed è giusto così perché Samajou tu non te lo puoi far sfuggire e te l'ha dimostrato anche questa notte lui può fare anche altro sfortunatamente non ha avuto l'ok dei medici anche fuori dalla WWE quindi secondo me ha fatto bene ad accettare questo nuovo ruolo che continuerà a farlo parlare di sé chi lo sa se un giorno lo vedremo su ring contro Karrion Kross contro Adam Cole contro Pete Dunne perché tutto attualmente sembra fattibile con il passare del tempo fatto sta che di ufficiale è che Samajou è il nuovo Special Enforcer dell'NXT e con Regal fanno una coppia secondo me da paura quindi fatemi sulle vostre i suoi commenti spolliciate i commenti condividete iscrivetevi al canale adesso ancora fatto le cazzuoli da qui è tutto più sweet e stasera Forza Italia Forza Italia Forza Italia